Secondo convegno pugliese di studi araldici e nobiliari per dipanare il filo intimamente legato a storie e memorie di Puglia. Un incontro culturale è andato in scena presso il Grand Hotel Tiziano a Lecce, aperto a nobili e appassionati di araldica, per ripercorrere la storia nobiliare in prospettiva di tramandarla alle nuove generazioni e di radare la nebbia del passato. La araldica descrive lo stemma, lo scudo familiare e lo scudo familiare è proprio il DNA di una famiglia, con tutte le vicissitudini, la storia, ciò che è accaduto di bello ma anche ciò che è accaduto di brutto. Quindi è importantissimo per conoscere la storia familiare e non ci dimentichiamo che ogni storia familiare costituisce un mosaico della storia d'Italia. Il convegno organizzato dall'Accademia di Studi Araldici, Nobiliari e Cavallereschi di Taranto è stato arricchito dai contributi dei nobili relatori che hanno acceso un faro su diverse casate che hanno lasciato un segno indelebile, alcune delle quali rinomate, altre poco conosciute delle terre pugliesi. Il tema della nobiltà, racchiusa nei libri d'oro e negli archivi di famiglia, continua ad affascinare. Il convegno ha cercato di cogliere virtù, valori, tradizioni, doveri, geste eroiche e testimonianze preziose, moralmente e storicamente, portando alla riscoperta delle radici del passato, piantate nell'humus del destino e della storia. Come delegazione per il Salento siamo onorati di ospitare qui a Lecce il secondo convegno pugliese di Studi Araldici, Nobiliari e Cavallereschi. È fondamentale per tutti noi conoscere il nostro passato per programmare il futuro. Quindi storia, storia della nobiltà, studio della raldica, delle famiglie, degli stemmi nobiliari e studio degli ordini cavallereschi. Noi proseguiamo per questa strada in un mondo di oggi secolarizzato che sta perdendo lentamente tutte le tradizioni.